Cari vicini dei termini, siamo qui alla chiusura agli scavi di Mera 2020 con il nuovo direttore del parco di Mera, l'architetto Zangara. Architetto, allora una responsabilità e un'eredità importante quella di amministrare un patrimonio incredibile come quello di Mera e non solo? Un patrimonio enorme, incredibile, soprattutto perché sono tre parchi, il parco di Mera, il parco di Solunto e il parco di Montegliato e sono due realtà veramente fantastiche. Io sto cominciando a studiarmele perché facevo un altro mestiere fino all'altro ieri, quindi sto cercando di capire anche se lavoro nell'ambito dell'archeologia, lavorando in dipartimento, però mi sono occupato per tanti anni con Sebastiano Tusa, il compianto Sebastiano Tusa di archeologia subacque. Ora cercherò di amministrare questo parco che comprende, ripeto, queste tre aree meravigliose, cercando soprattutto di valorizzarle, valorizzarle per renderle fruibili al meglio. Architetto, chiaramente se lei ha questa, dato che la sua esperienza nell'archeologia subacquea, può darsi che potrebbe nascere una ricerca di questo porto grandioso di Mera, chi lo sa? Questa è un'idea che lei mi sta strappando, ma già io nei miei pensieri c'era, c'era questa idea anche perché parliamo da decine d'anni, abbiamo noi lavorato anche in ambito di archeologia subacquea in zona, probabilmente faremo qualcosa, sì, in collaborazione sicuramente con la soprintendenza del mare, con la dottoressa Livigni, il nuovo soprintendente, quindi diciamo ci sarà sicuramente qualcosa anche di archeologia subacquea, molto probabilmente. In bocca al lupo e buon lavoro. Grazie, grazie. Con la professoressa Mango che ritorna ed è sempre un piacere perché davvero sta portando in luce una parte di Mera che non era nemmeno pensabile fino a qualche anno fa. Professoressa, una campagna scavo è forse sottotono, è sbagliato dire? Sì, sottotono non direi proprio, anzi è stata una campagna di studio, diciamolo apertamente. Lo studio, lo scavo archeologico è la prima parte e poi lo studio dei reperti per capire veramente in dettaglio cosa è successo tra le mura che uno trova è indispensabile. Dico tutti gli archeologhi che non fanno altro che scavare e non studiano, non va bene. Per fortuna oggi questa malattia che nei secoli scorsi è stata molto pronunciata si è guarita. E anche noi adesso, grazie a questa campagna di studio di cinque settimane, più ogni anno che veniamo due o tre volte, siamo riusciti ad arrivare a pari con tutto il materiale che abbiamo tirato fuori. Abbiamo bisogno di tutto, abbiamo trovato le cose straordinarie, abbiamo scoperto tutta una zona, uno spazio urbano nuovo che non si conosceva, con due santuari e dei ritrovamenti che incominciano a parlarci e a riempire lo spazio, l'area del piano del tamburino. Ho letto nel suo discorso, al termine, un po' di rammatico per non avere scoperto ancora una volta se questa zona nel piano del tamburino è all'interno del centro urbano di Mera. Sì, allora, una domanda in fondo scientifico è da 150 anni. Uno, sì, ci sono delle opinioni sì doveva far parte, no invece no. Insomma, diciamo che è uno spazio urbano nel senso che veniva utilizzato dai cittadini in modo molto frequente. Questo lo è. Però, ecco, se era circondato da una cinta muraria oppure no, questo è un dato importante perché il piano del tamburino si affaccia, come il piano di Mera, sulla città bassa. Cioè, dal punto di vista strategico e difensivo doveva in qualche modo essere protetto se no i cartaginesi anche da sopra la testa potevano attaccare i limeresi. Per cui io sarei piuttosto stupita se non ci fosse. Però, non scordiamoci, che tutto il piano del tamburino è stato fortemente lavorato da lavori agricoli fino alla fine degli anni 90. E poi buona parte del piano del tamburino è tuttora zona agricola, anche giustamente, per l'amor del cielo, non voglio dire. Però, ecco, ritrovare una cinta muraria è difficile, forse proprio le fondamenta. Cioè, non l'alzato come magari potrebbe essere bello trovare, ma le fondamenta. Io sono positiva di poter continuare questa ricerca, allargandomi con il sostegno anche del neodirettore che mi sembra molto interessato a questo lavoro. Per cui, sì. E' una risposta prima o poi. In chiusura possiamo dire che Imera è sempre più grande di quanto la possiamo immaginare o la possiamo immaginare fino ad oggi. Esattamente. Allora, già col fatto del piano del tamburino diventa una delle colonie più ampie della Sicilia, delle colonie greche. Se poi questo piano del tamburino, di circa 40 ettari, facesse parte veramente all'interno della cinta muraria, sarebbe dal punto di vista grandezza, dopo Siracusa e dopo Selinunte, la terza colonia per estensione. E poi è anche logico che fosse una colonia veramente importante, perché è l'unica sulla costa settentrionale della Sicilia. E questo non è un caso. E quando fu fondata era anche la colonia più occidentale nella sua epoca, insieme a Selinunte a sud. Per cui questa funzione con lo scambio, con il commercio vicino alla zona cartaginese, sulla rotta dell'argento che veniva dalla Spagna, infatti la monetazione a Imera incomincia prima della sua città, la sua metropoli, Zancle oppure Messina. Insomma, sono tutti elementi molto molto interessanti. Ecco, Imera è fantastica. Grazie professoressa e bocca al luo per tutto. Che crepi, grazie.